che siamo su gta fuck up man uai ma dove sto facendo su oh 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 no 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 che vero che mi sto messendo no no come scava come scava corri corri passi i miei messi il cinema se mi voglia sto creato mi ha fatto crack la schiena l'abili non è un l'ambiente la base di scambi lo stia lì non so perché proprio libero per me si ha avviso pisciando cosa pure scambiare c'è la differenza lei si è voluto mettere lì amico si metta qui oddio ma da quando vada mi sono cagato che mi ha perso un materiale gigante mi mangia oddio che p... pure qua dietro tanto guarda si cade allora cosa mi vuole dare facciamo prima fare così fammi dare le poste ti faccio un piacere per te mi scambio più di un'arma prima scambiamo un'arma prima no più di un'arma scambio c'è uno youtuber 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 come li vedi scambia un'arma dice faccio dai loro scambiamo no che so facendo ma lei alimentare tiene solo armi centri no ok 130 in su 130 e 130 in su guarda le faccio le faccio le faccio le faccio le faccio grazie mille il rumore è un po' assorbato ma sper le orecchie le orecchie ecco i fatti sono abbassa 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 allora troppo ovviamente più di un'arma ecco lei tre no quattro guarda uno no manco quattro cinque amico guarda te le conto pure guarda 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 una guarda due tre quattro e cinque salta come un coniglio ma io mi sto facendo sotto mi sto cagando sotto no pisciano l'ultima l'ultima sono fatto truffare apposta dai che truffatore cosa guarda la clip è l'all